Dimmi, Homer, tu lo sai per quale motivo mangi? Per ingoiare le mie frustrazioni e delusioni? Succede qualcosa di brutto e tu reagisci ingozzandoti di ciambelle. Ah sì? Beh, non sempre c'è il tempo per... Bene, ora ti insegnerò delle alternative emotive sane al mangiare. Non abbiamo molto tempo, quindi lo facciamo con un montaggio sulla canzone Eye of the Tiger. No, è un po' troppo precisina. Possiamo farlo su Heroes di David Bowie? Eh, il montaggio è tuo.